buongiorno ragazzi oggi vi voglio presentare un nuovissimo prodotto che era l'ultimo che mancava nella nostra line up solare che è il leggings sicuramente molti sono scettici a riguardo perché non capiscono bene la sua funzione però vi assicuro che questo capo vi svolterà letteralmente la vita e le vostre giornate infatti è pensato per darvi diversi vantaggi in primis una protezione solare fuori dal comune che supera il 90 upf durante una qualsiasi giornata di pesca anche se non c'è un sole eccessivo nel momento in cui state 10 12 ore sotto il sole questo appunto va a scottarvi e a farvi proprio dei veri e propri danni ma soprattutto va a stancarvi sempre di più soprattutto se dovete affrontare dei viaggi di pesca quindi siete a pescare diversi giorni consecutivi il primo giorno vi ustionate e i giorni successivi andate sempre di più a gravare la vostra situazione questo capo invece vi consente una massima protezione senza dover mettere creme che andrebbero rimesse mille volte inoltre vi regala un comfort fuori dal comune se siete abituati ad andare a pescare in jeans piuttosto che con pantaloni di diverso tipo in questo caso apprezzerete tantissimo la comodità che avrete nel nell'indossarlo e nel piegarvi nel fare qualsiasi cosa ovviamente sono da indossare in abbinato a dei pantaloncini come questi che indosso ad esempio sono studiati per essere super traspiranti si asciugano in un batter d'occhio il tessuto principale è un interlock un jersey prodotto in italia super qualitativo con una protezione solare appunto che supera i 90 pf studiato per il ciclismo dove si è sempre alla ricerca delle migliori performance in assoluto e non ride come si dice in gergo in alcun modo è studiato apposta quindi lo potete strecciare quanto volete ma sarete sempre coperti la parte anteriore così come il retro così come l'elastico superiore sono traspiranti in questo caso abbiamo utilizzato lo stesso materiale che utilizziamo nelle nostre maglie solari che è il carbon tech quindi traforato con fila carbonio che inibiscono la proliferazione batterica abbiamo sm lxl doppia xl triple xl in queste tre taglie siamo sicuri che ogni persona può trovare la sua potete trovare già disponibile sul nostro sito big one trattino outdoor puntocom questi leggings in tutte le taglie in tutte le nuove colorazioni così come le nuove colorazioni delle maglie dei buffer e tutti i nostri prodotti quindi vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo prestissimo